Anche l'Aquila avrà il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, una presenza che sarà importantissima per una città ricca d'arte, di storie e monumenti. La notizia è stata annunciata nel corso della firma dell'accordo quadro tra Comune e Regione De Manio, che riorganizza sostanzialmente il patrimonio immobiliare del capoluogo di Regione. Nella riorganizzazione delle caserme cittadine dunque avranno spazio anche i carabinieri del Nucleo, un nucleo importantissimo in Italia, che possiede una banca dati enorme, in considerazione di tutte le opere italiane, che sono a disposizione anche delle altre forze di polizia. Il nucleo avrà la sede in pieno centro, nei locali dell'ex caserma di Amicis, un tempo di stretto militare a San Berardino, locali ormai dismessi da un po'. Ci vorrà del tempo, ma questa di per sé è già un'ottima notizia. Negli stessi spazi, come annunciato nel Comune, ci saranno anche il segretariato regionale Mibact e l'archivio di Stato. Si tratta di una scelta che per la città dell'Aquila avrà enormi ricadute, perché oltre all'arrivo dei carabinieri ci saranno anche le loro famiglie. Il sindaco ha già individuato soluzioni per permettere loro una certa stanzialità nella città dell'Aquila, mettendo a disposizione degli alloggi. In conferenza stampa è stata annunciata come data il 2022. Non subito, ma considerando l'appalto pubblico, la procedura e i lavori, di certo prima non si poteva fare. L'organizzazione del nucleo carabinieri che si insedierà all'Aquila attualmente ha una sede centrale a Roma. Il reparto ha competenze anche sul Lazio e Abruzzo con sedi periferiche. I nuclei attualmente esistenti sono quelli di Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Ancona, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Udine e Venezia.